Come gruppo di opposizione vi chiediamo per i beni del paese di ritornare a governare in modo fattivo, soprattutto in modo che la popolazione capisca che c'è qualcuno in Gampina di regia. E' ormai inutile continuare a ripeterlo. Noi siamo disponibili a qualsiasi tipo di collaborazione, se gradita, a scrivere gruppo di direzione Pacentro, minoranza consigliare, che presenta il bilancio della gestione dell'emergenza coronavirus in paese e del primo anno del mandato amministrativo Angelilli Bis. Nessuna sanificazione nelle aree esterne del paese, perché non serve. Nessuna distribuzione delle mascherine, perché dobbiamo stare a casa, tuonano dall'opposizione. Ci avviamo verso la fase 2, quella famosa delle possibili riaperture delle attività economiche e il ritorno a una circolazione più libera. E se vogliamo la mascherina, ci dicono dal comune, dobbiamo chiederla e ci verrà consegnata. Stiamo scherzando? Le mascherine vanno consegnate a ogni famiglia. I cittadini che in questo periodo comunque hanno avuto necessità di uscire hanno dovuto procurarsene a caro prezzo. La nostra amministrazione dov'era? Il sindaco dov'è? Dietro uno schermo per i proclami dei casi positivi? Non è sufficiente, caro sindaco. Oltre a far pervenire le richieste di rimborso dei viaggi, sarebbe caso che facesse pervenire la sua presenza. Sono passati oltre 40 giorni dall'emergenza, dall'emanazione del primo decreto. La sua assenza in paese è rimasta giustificata per un po', ma non è tollerabile questa assenza in un momento così delicato per la popolazione tutta. Stiamo assistendo a varie iniziative a livello di Valle Peligna, l'ultima in ordine di tempo la lettera di 19 sindaci alla ASLE per chiedere la messa a disposizione di Villa Gioia per i guariti da covid che devono ancora stare in isolamento. Spiccava forte l'assenza di pacentro. Forse a noi come territorio questa cosa non interessa? Stiamo pensando a come offrire un reale supporto alla ripartenza delle poche attività economiche che ci sono rimaste in questo paese? E di pochi giorni fa la notizia della chiusura di uno storico bar. Forse si poteva intervenire in qualche modo per evitarlo? Non si tratta solo di crisi economica, ma altri problemi che tutti conoscono. E di ieri l'ufficiale annuncio della chiusura della filiale Biper. Certamente una banca non si preoccupa di altro che non siano i propri bilanci, ma il fatto che l'amministrazione confessa di essere stata accolta di sorpresa da una notizia simile, considerato che stiamo parlando della tesoreria comunale, non lascia besperare sulla gestione delle problematiche del paese. Poi arriva l'affondo della minoranza sul primo anno del nuovo mandato e trascorso quasi un anno dai bei proclami fatti sul palco dei comizi elettorali, l'impressione che sia che le parole siano rimaste parole e il paese, che a onor del vero era tanto progredito, in meno di un anno è assolutamente regredito. Probabilmente vi siete adagiati su una vittoria che doveva avere solo un significato simbolico, concludono da direzione pacentro.